Dopo la stretta di mano a Cuba del settembre scorso tra il presidente colombiano e il leader delle FARC, un'altra tappa importante nel processo di pace tra lo Stato e il gruppo clandestino viene proposta dal presidente Juan Manuel Santos. Un cessate il fuoco bilaterale da far entrare in vigore il prossimo 1 gennaio. Se facciamo questo sforzo per compiere un ulteriore passo verso la fine del conflitto è perché riteniamo ci siano le condizioni e le intenzioni, almeno da parte del governo. Abbiamo dato istruzioni ai negoziatori di procedere in questa direzione. Quello tra il governo colombiano e le forze armate rivoluzionari marxiste è un conflitto che dura da 51 anni, ha fatto più di 220.000 morti, oltre a migliaia di profughi e di persone sequestrate a scopo di riscatto. Le FARC hanno sospeso i combattimenti nel luglio scorso.